Ieri ti ho parlato dell'importanza nel passaparola in ogni business e, come ho detto, è sicuramente uno strumento che tu già utilizzi perché è molto probabile che tu stai ricevendo clienti tramite passaparola, ma è molto probabile che tu lo stia soffrendo, nel senso che è uno strumento passivo che non riesci ad utilizzare e ieri ti ho suggerito di trovare alcune soluzioni per cercare di stimolarlo attivamente. Oggi voglio parlarti di un altro elemento molto importante da sfruttare che si avvicina molto al passaparola ed è il concetto delle testimonianze, ovvero raccogliere le testimonianze o recensioni dei tuoi clienti. Immagina, parlando sempre di ristoranti, quante volte ti capita di andare in un ristorante ma prima di aver verificato le recensioni, o sulla pagina Facebook o su Google o magari su TripAdvisor. Oramai le persone, prima di testare un locale nuovo, vogliono vedere cosa altre persone dicono di questo locale. E lo stesso avviene, anche se in maniera un pochino più leggera, per qualunque tipo di business di attività. Quante volte magari hai dovuto comprare un prodotto e prima di effettuare l'acquisto sei andato a leggere le recensioni su internet, magari anche su Amazon ti sei messo a a scorrere le recensioni, oppure quando hai comprato un libro e hai letto le recensioni di altre persone che lo avevano già letto. Questo perché l'opinione delle altre persone è estremamente importante. Possiamo affermare che se un tuo amico ti dà un consiglio, tu lo ascolti perché ti fidi di lui. Ma immagina questa situazione. Un tuo amico ti dice vai a mangiare in quel ristorante perché si mangia benissimo. Tu apri TripAdvisor o Facebook o Google e vedi una sfilza esagerata di recensioni pessime, soprattutto le ultime. E tutte si lamentano magari della stessa cosa, quindi che il servizio è lento, i piatti arrivano freddi e il personale è scortese e non è nemmeno pulito. Dimmi, andresti lo stesso in questo locale? Ti fideresti del tuo amico oppure ti fideresti di 200, magari 300 sconosciuti che hanno lasciato la loro opinione? È molto probabile che tu ascolterai questi sconosciuti perché sono in un numero talmente alto che sovrastano l'opinione del tuo amico. E questo è un concetto da tenere a mente indipendentemente da quale sia il tuo business. Avere delle persone che parlano bene di te, che ti lasciano delle testimonianze, che hanno il coraggio di metterci la faccia per dire che tu sei un professionista molto in gambo, il tuo prodotto è ottimo, il tuo servizio è spettacolare, che nel tuo ristorante si mangia benissimo. È un elemento che dovresti sicuramente utilizzare nel tuo marketing e ovviamente per farlo devi assolutamente raccogliere queste testimonianze. Come fare? Te lo lascio come compito di oggi. Se vuoi la strada semplice c'è il mio corso Business Fire Up in cui tratto anche questo punto, però la logica è sempre la stessa. Cerca di trovare delle soluzioni da applicare al tuo business perché questi semplici passi, perché tutto sommato non sono complessi, se uniti, messi un gradino di fianco all'altro, inizieranno a costruire delle fondamenta per il tuo business talmente solide da riuscire a sopravvivere nel mercato, nonostante periodi di turbolenza, di crisi, non importa, sono tanti tasselli che è molto probabile che i tuoi concorrenti non abbiano e nel lungo periodo faranno davvero la differenza. Con questo è tutto, se trovate utile questa pillola clicca mi piace e condividi, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, io nella mia pagina Facebook ad esempio mi pare 755 recensioni a 5 stelle più o meno, 4,9 la media, poi Facebook ha cambiato un po' il sistema e ora ci sono i suggerimenti o mi sembra 180, 190 persone che consigliano la mia pagina, per cui sono a circa un migliaio e questi sono elementi che io posso sfruttare a mio vantaggio per dimostrare ad altre persone che non sono magari come mi scrive qualcuno nelle Facebook, un fuffarolo, uno che ti vuole vendere qualunque cosa e così via. Oltretutto ho anche testimonianze di persone che hanno partecipato ai miei eventi dal vivo, quindi anche queste vengono utilizzate a mio favore. Quindi diciamo che ho una freccia in più nel mio arco da scagliare contro potenziali clienti ed è la stessa cosa che dovresti fare tu indipendentemente dal business in cui sei. Per cui riflettici seriamente e applicalo il prima possibile al tuo business. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!